Se stai pronunciando quel sì, lo voglio, vuol dire che credi nelle emozioni. E quando si fanno certe scelte, anche la casa e lo stile si sposano con te. Dotolo Mobili ti propone speciale arredo sposi, arredo completo easy, cucina, parete attrezzata, camera matrimoniale, divano 2 e 3 posti a soli 4.590 euro. Arredo completo classic a soli 9.990 euro e in regalo smart tv, lavatrice o asciugatrice. Speciale arredo sposi è un'esclusiva a Dotolo Mobili e paghi incomoderate senza anticipo. Dotolo Mobili, qualità al giusto prezzo. A passo di Mirabella, Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola, Caserta.